Parte il cantiere in Via Anelli nei pressi dell'ex Monte Catini di Piano d'Orta a Bolognano. La strada è chiusa da dieci anni. Si procederà alla rimozione dei rifiuti pericolosi grazie al Comune e soprattutto alla Regione che ha messo a disposizione oltre 110.000 euro, spiega il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale Guerino Testa. Giornata importante perché vediamo alle nostre spalle i lavori iniziati oggi che dureranno circa sette giorni per rimuovere probabilmente oltre 150 tonnellate di rifiuti pericolosi, tanto sono stati stimati e la Regione ha preso atto di questa problematica e visto che dal primo giorno del proprio insediamento ha posto grande attenzione a tutte le problematiche ambientali, ha messo sul piatto oltre 110.000 euro per rimuovere questo cumulo di rifiuti e quindi ridare rispetto per la salute pub, rispetto per i cittadini che abitano residenti in questa zona e per ridare anche la possibilità di far rifunzionare la viabilità in questa zona perché una volta che saranno tolti questi cumuli ci sarà la possibilità ai veicoli di transitare. È una giornata che io voglio definire agrodolce, dolce perché per quello che ho detto poc'anzi, agro perché quando si mette riparo a danni causati contro l'ambiente non si può mai festeggiare in maniera totalitaria perché evidentemente le ferite sono state lasciate, probabilmente non verranno mai remarginate e quindi vuol dire che il territorio è stato martoriato. Comunque faccio il plauso al Sindaco e noi come Regione continueremo fino alla fine ad essere presenti in tutte le sedi opportune per rivendicare che chi ha sbagliato dovrà pagare perché questo è un territorio al pari di quello di Bussi che per troppi anni è stato martoriato. Soddisfatto il Sindaco di Bolognano Guido Di Bartolomeo. Riusciamo a dare lustro e dignità a questa via diciamo impropriamente monga perché inizia una via e non c'è l'uscita perché l'uscita della parte terminale della via è interrotta da un cumulo di rifiuti industriali. Questi rifiuti non hanno permesso alla viabilità sia pedonale che veicolare di questa via che si va a ricongiungere in via Fiume che sarebbe il centro del paese di Piano d'Orta. Ed oggi grazie agli uffici tecnici del Comune e all'interessamento della Regione a capo l'assessore preposto Campitella e il capo dipartimento Corropoli nonché dall'interessamento di Guirino Testa siamo riusciti a prendere questi fondi per ritogliere questi rifiuti pericolosi.